a tecla Luca 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 venire a luci Luca 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 Vai! Alla prossima! Eccolo, cavi via, cavi via! Via via! Recuperate, recuperate! Eccolo, via via! Via via via! Passa! 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 Sì No, vanno, stesù! Vanno a fare l'elettro! Ecco qua! Oh, oi, la! E' un'altra parte qui sta, no? Un'altra via! Un'altra parte qui! Un'altra parte, un'altra parte qui miro. Un'altra parte qui miro, un'altra parte qui, Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti